Kibernet ha stato oltre 40 anni a fianco enti pubblici e attenti sanitarie offrendo servizi e software con una presenza capillare sul territorio italiano. Il nostro lavoro parte dall'analisi normativa per poi proporre soluzioni volte ad aumentare l'efficienza degli uffici pubblici permettendo ai comuni di offrire ai propri cittadini servizi d'eccellenza. I nostri clienti presentano esigenze molto diversificate, questo richiede da parte nostra una profonda conoscenza delle singole realtà. La nostra forza è sempre stata proprio questa, la vicinanza ai comuni e la capacità di proporre ai clienti soluzioni personalizzate. Riusciamo a realizzare questi obiettivi perché Kibernet ha sempre investito e continua ad investire nella ricerca di nuove tecnologie che poi utilizziamo per elaborare soluzioni innovative per risolvere i problemi complessi a cui gli enti devono far fronte. Kibernetics in questi anni ha perseguito due principali obiettivi. Uno legato a una crescita quantitativa ma soprattutto qualitativa e uno orientato al cercare sempre di dare al cliente un parco servizi a corredo sempre maggiore. Il contesto tecnologico è influenzato soprattutto da quattro aspetti. Il software, le infrastrutture, i servizi e le persone. Questi sono aspetti complessi e questa complessità ha portato Kibernetics a implementare un'elasticità che non coinvolge solamente lei ma anche tutti gli altri fornitori che quotidianamente con noi partecipano al processo produttivo. Durante questi anni l'implementazione dei nuovi modelli di business as a service ha fatto notare una crescita, ha portato una crescita esponenziale in termini di tipologia di clienti, esigenze soprattutto dei clienti e in termini quantitativi. Supportarci nel processo di gestione di questi aumenti ha consentito ad Aruba di diventare per noi un partner fondamentale, partecipando a progettazioni a quattro mani e proponendo soluzioni tanto elastiche e tanto adattative da poterle applicare su tutte le situazioni, passando da soluzioni prima in public, poi al private, fino alla soluzione ibrida e multicloud attualmente in essere. Lavorando da molti anni per la pubblica amministrazione abbiamo vissuto l'evoluzione tecnologica che c'è stata. Se in un primo momento il servizio digitale era un elemento che veniva usato di rado e in via accessoria, adesso il paradigma è cambiato e i servizi vengono erogati principalmente in maniera digitale. Tra le varie soluzioni di Kibernetes, nell'ultimo periodo ha avuto particolarmente successo il municipio virtuale, ovvero una piattaforma online che permette alle pubbliche amministrazioni di andare ad erogare servizi completamente digitali verso i cittadini, come la presentazione di stanze, la richiesta di un certificato online oppure la prenotazione di un appuntamento. Le nostre soluzioni permettono di guidare la pubblica amministrazione all'interno di questo processo di digitalizzazione, offrendo soluzioni che sono conformi alle linee guida e integrate con tutte le piattaforme nazionali abilitanti, ovvero SpeedC per l'autenticazione, PagoPA per i pagamenti, Appio per la notifica ai cittadini e NPR per le banche dati. Tenuto conto della diversità tra le varie pubbliche amministrazioni e in virtù del fatto che la mission nostra è quella di creare servizi nativi digitali, la partnership con Aruba ci permette di andare a lavorare in maniera sartoriale con ogni cliente per poter affrontare al meglio questo processo di digitalizzazione che è altamente impattante al suo interno, all'interno del lente. In questo contesto ha avuto una forte accelerazione grazie al PNRR e soprattutto i bandi legati alla digitalizzazione che però prevedono degli elevati standard qualitativi. Grazie ad Aruba Enterprise noi riusciamo ad offrire delle soluzioni conformi a questi requisiti, sia da un punto di vista di affidabilità e sicurezza, sia da un punto di vista delle certificazioni che vengono richieste.